Grazie a tutti. La nostra rubrica non finisce mai di stupirvi dopo l'emozionante puntata dedicata al Bietlon, oggi siamo in Val di Daone in provincia di Trento per seguire un appuntamento davvero emozionante, la prima prova di Coppa del Mondo di arrampicata su ghiaccio. Davvero una specialità molto bella da seguire con una grande attenzione, molto emozionante per le prestazioni degli arrampicatori che potremmo chiamare appunto ghiacciatori o cascatisti, visto che l'origine dell'arrampicata su ghiaccio avvenne verso la fine degli anni 70, almeno qui in Valle di Daone, con le arrampicate lungo la cascata del Leno, poi battezzata la Regina del Lago. In queste prime immagini che ci arrivano allora dalla provincia di Trento, da Daone, stiamo seguendo la cerimonia di apertura di questa prova mondiale, la prima del campionato di Coppa del Mondo di specialità. Sono state benedette le picozze che sono gli strumenti fondamentali per svolgere questa specialità, detta anche Ice Climbing. Gli alpini cantano giustamente per dare solennità a questo momento, si accende il bracere olimpico, chiamiamolo così, anche se è relativo soprattutto alla prova di Coppa del Mondo, si può dare il via alla prima delle due prove. Quella di velocità vince chi arriva primo in cima, questa è la finale femminile che ha visto confrontarsi la francese Stéphanie Moreau, l'avete vista il numero 3, e la russa Maria Toloconina con il numero 29, la vedremo fra poco. E poi ci sarà la prova di difficoltà. Torri da 30 metri a strapiombo, in parte avete visto ghiacciate, il regolamento prevede che le atlete ovviamente raggiungano la cima nel minor tempo possibile. Ci è riuscito in questo caso per prima Maria Toloconina, che quindi si è giudicata la prima delle due finali rispetto alla Stéphanie Moreau, la francese. Seconda manche di finale a pareti invertite, numero 29 la Toloconina, 21 anni, mentre Stéphanie Moreau ne ha 31. Ecco, vedete decisamente in grande vantaggio la russa, che va allora a concludere la prova di velocità da vincitrice. Ecco, mentre ora seguiamo la gara maschile, che vede di fronte due atleti dell'ex Unione Sovietica, ovvero Pavel Gugliaev, che gareggia con il numero 43 a sinistra. In questa manche è arrivato per un pelo davanti al connazionale Igor Faizullin, vediamo il replay di questa grande difficoltà, di questa specialità davvero da coraggiosi, che è l'arrampicata su ghiaccio. Seconda manche di finale della prova di velocità, parte come un razzo davvero Gugliaev, l'avete visto sulla destra, qualche incertezza, qualche scivolata per Faizullin. Eccoci allora con Gugliaev che chiude vincitore nella gara di velocità. Ma dobbiamo dire che la cosa forse più affascinante da seguire nella rampicata su ghiaccio è decisamente la gara di difficoltà. Davvero il momento clou di questa prima prova dell'Ice Master World Cup qui dalla Valle di Daone in Trentino. Stiamo seguendo con il numero 30 la salita, l'arrampicata della Svizzera Petra Müller che l'anno scorso vinse qui proprio a Daone. Ci danno appunto le statistiche mentre stiamo seguendo la sua arrampicata. Vi dicevo le statistiche ci danno in questa gara di Daone anche la partecipazione di alcune atlete italiane non al momento di atleti maschi. Vedremo come andrà a finire. Ecco che allora conclude la sua prova. Le atlete devono portare entrambe le piccozze sul top che vedete è l'ultimo appiglio blu e poi devono agganciare la fune al moschettone più alto. Solo in quel momento verrà decretata la fine prova. Con il numero 16 la ceca Luci Rozova. Notate lo sforzo incredibile che fanno per trascinare con sé anche appunto le gambe. Uno sport della grande acrobatica e ovviamente dalla grande energia. ecco la Rozova numero 16 che va a concludere la sua gara ancora un attimo deve recuperare vedete usano anche i denti recuperare la fune attenzione alla piccozza che può cadere vedete che viene tenuta in maniera davvero avventurosa agganciata la fune e agganciata anche la piccozza conclusa la prova di Luci Rozova. Seconda prova per la Svizzera Petra Müller che l'anno scorso vinse qui vinse sì esatto qui a Daone la prova di difficoltà invece la vediamo in difficoltà in questo momento e non riesce allora a passare il tratto più difficile. quello appunto il tetto ghiacciato mentre ora siamo tornati ora con le nostre immagini seguiamo la prova della francese Stephanie Moreau numero 3. quando si arriva al top i giurati assegnano un punteggio che è proporzionale alla quantità di parete che si riesce a scalare per la quale però c'è un tempo massimo di 8 minuti e mezzo. vedete la tecnica della francese Moreau 31 anni tornata alle competizioni quest'anno raggiunge il top lo ha quasi finito la sua prima prova due piccozze e la corda. seconda prova per l'atleta numero 16 la ceca Rozova la vedete ora è sulla parete di destra la più difficile. Luci Rozova 20 anni l'anno scorso undicesima in classifica finale di Coppa del Mondo ed è campionessa nazionale della Repubblica Ceca consecutivamente da due anni. notate veramente la grande preparazione che richiede questo sport difficoltà per la Rozova questa seconda prova per lei ci sembra molto difficile ce la sta mettendo tutta ma vedete cade non arriva al top e quindi il punteggio è più basso per lei. ora siamo sulla russa Maria Toloconina numero 29 molto graziosa ha vinto la prova di velocità in notturna della sera precedente è alla prima delle sue due zone nella gara di difficoltà hanno un peso forma queste atlete intorno ai 50 chili. ecco la giovanissima 21 anni l'anno scorso è stata campionessa ha vinto la Coppa del Mondo della specialità di velocità e anche nel 2007 attenzione le manca pochissimo due piccozze manca la corda. vedete siamo sulle punte per raggiungere la vetta ecco allora obiettivo raggiunto per Maria Toloconina in questa prima delle due prove di finali. finalmente i colori italiani la meranese Angelica Reiner eccola con il numero 6 ha fatto la vediamo impegnata nella sua prima prova arrampica bene ci sembra Angelica Reiner 22 anni meranese eccola raggiunge il top le due piccozze manca la corda ma è questione di attimi ci sembra aggancia il moschettone e per lei allora un ottimo risultato. grazie 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 grazie